Vi presento l'altro poeta Enrico Fagnano. Enrico Fagnano ha fondato e diretto le riviste Brian City, L'Erba, La Parola Abitata, è stato redattore di Radiospazio Popolare e dal 1985 è stato tra gli animatori del gruppo dei poeti del Gambrinus. Ha pubblicato nel 2000 la raccolta di aforismi Avvistamenti, nel 2005 la raccolta di racconti La Bomba è il suo contrario e nel 2012 la silloge poetica Alternative. Dal 2006 al 2012 ha curato il laboratorio di poesia della società Dante Alighieri di Napoli e attualmente dirige le attività dell'associazione culturale La Parola Abitata. Enrico Fagnano. A voi Enrico Fagnano. Buonasera, per questa serata che stiamo trascorrendo così piacevolmente in riva a questo lago ho scelto dei testi, brevissimi ovviamente, che hanno un contenuto conviviale. Sono tutti tratti da quel libro Avvistamenti che abbiamo messo anche sul banchetto. Sono poesie che poi in realtà sono dei veri e propri aforismi. Solo poche persone hanno realmente qualcosa da dire. L'importante è non farle parlare. Volevo prendere una linea retta. Invece, come spesso capita, ho preso un segmento. L'uomo del 2000. L'uomo che si piega molto e all'occorrenza si spezza anche. Andarono subito d'accordo. Fuggivano nella stessa direzione. Tieniti sempre pronto, bello e incazzato. Può sempre essere che da un momento all'altro si incazzino anche gli altri. Questa è davvero una cosa strana. C'è in giro un sacco di gente che vende il fumo. Ma questa è una cosa ancora più strana. C'è un sacco di gente che se lo compra. Ora ti possono inchiappettare in qualsiasi parte del mondo. Questo è il villaggio globale. Se tutti i buffoni andassero in giro con una trombetta in testa, sarebbe un grande strombazzamento generale. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Quando, come e perché? E principalmente ragazzi. Ma chi ce lo fa fare? Dedicato al mio amico buddista, certo, la via dello Zen è molto pericolosa. Ma via Greleo Ferraris, dietro alla ferrovia, è più pericolosa ancora. Ogni uomo ha il suo prezzo. Tutti comunque concedono lo sconto. Lui voleva fare il triplo salto mortale. Gli ne riuscirono due e mezzo. Peccato, ce l'aveva quasi fatta. Ebbi un vuoto di memoria e mi sentì improvvisamente felice. Ricorda, uomo, che polvere eri e polvere diventerai, ma nel frattempo non è esclusa un poco di baldoria. Mi fa paura l'aldilà, ma per la verità neanche l'aldiquà mi fa stare tanto tranquillo. Succedono cose strane, le chiamano spie e invece sono guardoni. Lui capì di non avere più nulla da dirle e poiché era una persona seria, non glielo disse mai. La verità non esiste, però esiste il suo perfetto contrario. Siamo tutti nella stessa barca, però c'è sempre chi rema e chi prende il sole. Grazie. Dio mio, come sono cambiati i tempi. Una volta c'era la lotta per la vita, adesso c'è la lotteria per la sopravvivenza. Dio mio, come sono cambiati i tempi. Una volta c'erano le ideologie, adesso ci sono le indietrologie. Dedicato agli evasori fiscali, chi più ne ha più ne omette. Non sempre è colpa degli occhi se non si riesce a guardare oltre. Veramente credevi di continuare a sparare al cielo senza colpire mai una nuvola? E chiudiamo con questo. Era tardi, ho spento la mia voce. Grazie. Grazie a voi.